La vera misura di un uomo non si vede nei suoi momenti di comodità e convenienza, bensì tutte quelle volte in cui affronta le controversie e le sfide. Se non potete essere una via maestra, siate un sentiero. Se non potete essere il sole, siate una stella. Cercate di essere sempre il meglio di qualunque cosa siete. Integra nasce nel 2003 dalla volontà di Clodiana Ciuca, la quale ha coinvolto un gruppo di persone di diverse etnie, accomunate dal desiderio di mettere al centro il migrante e la sua figura di uomo o di donna, con l'intento di migliorare la vita di chi lascia il suo paese per approdare in un altro, con la valigia colma di speranze. Sono otto anni di vita e Integra Onlus lotta ogni giorno per una reale integrazione tra i popoli. Salve, io sono Ergus Gheska, il presidente dell'Assal Student, l'associazione degli studenti albanesi di Lecce. Siamo venuti a contatto con Integra e con Clodiana in occasione dell'invito suo riguardo al progetto Ripartiamo da Noi, un progetto molto importante e molto bello per tutti noi giovani dell'associazione, anche se è una piccola associazione abbiamo avuto questa possibilità di partecipare a questo progetto che ci ha fatto imparare tantissime cose. Il progetto Ripartiamo da Noi si colloca nel campo dell'imprenditoria giovanile, dovrebbe aiutare a mettersi in proprio i giovani. Il progetto ha avuto due fasi, la prima fase è stata la fase della presentazione e quella della formazione dei giovani, durante la quale abbiamo avuto la possibilità di avere delle basi in marketing, in organizzazione di eventi, che cos'è il turismo, valorizzare le zone urbanistiche e suburbane per quanto riguarda il turismo, la destagionalizzazione turistica e di inventare un modo di avere la possibilità di metterci in proprio come giovani aprendo delle agenzie vere e proprie per far partire un'attività. Sono Marta Anna Varko, sono mediatrice interculturale, collaboro con l'Integra da due anni. L'Integra è un'associazione che mira all'integrazione e l'inclusione di immigrati presenti sul nostro territorio. Io stessa, essendo un'immigrata, anche se oggi mi ritengo perfettamente integrata, ma conoscendo i problemi e i dubbi i quali riscontrano un straniero al suo arrivo qui in Italia, ho voluto sfruttare la mia esperienza e il mio percorso per quanto sia possibile aiutare queste persone. Molti di loro non hanno una perfetta padronanza di lingua italiana, c'è chi ha la ricerca di un lavoro o di una casa, c'è chi cerca di migliorare le proprie conoscenze, anche quelle informatiche, c'è chi si pone le domande riguardo le pratiche da presentare agli uffici competenti, per richiedere l'assistenza sanitaria, anche per il rilascio di permesso di soggiorno, convalidare un titolo che hanno conseguito nel suo paese dal quale provengono. È qui che l'Associazione Integra, insieme ai suoi mediatori interculturali, costantemente aggiornati nelle problematiche migratorie e tutte le leggi che le regolano, assiste loro come una guida, un sostegno per questi immigrati. Attraverso i sportelli e i servizi front office i mediatori forniscono tutte le informazioni riguardanti il disbrigo delle pratiche da presentare, preparano il curriculum con le esperienze lavorative di questi ultimi per poi presentarli dove un potenziale datore di lavoro lo richiede. Offrono anche consulenza giuridica. Spesso gli immigrati sono ben consapevoli i propri diritti, ma che purtroppo ancora oggi spesso sono loro negati. Un mediatore prima di tutto è un buon ascoltatore che conoscendo ogni singola situazione nella quale si trova un immigrato è pronto a dare supporto e consulenza relativa a come procedere e risolvere i problemi, i dubbi che man mano si pongono. Nei casi più delicati, lì dove è opportuno, abbiamo anche a disposizione il supporto di un psicologo. Una cosa è certa, lavorare con integra apporta tantissime soddisfazioni. Tutto ciò è possibile grazie a un'atmosfera familiare che si crea tra noi tutti i collaboratori, ma anche grazie all'amore verso il prossimo della nostra Presidente, un impegno costante, ma siamo sicuro che insieme ce la possiamo fare. Mi chiamo Chismette, sono del Kosovo, sono mediatrice interculturale e conosco Integra come l'associazione sin dal 2006. Io parlare per Integra veramente non mi basterebbero ore intere, perché posso dire sin dall'inizio che Integra mi ha dato le possibilità di realizzare ciò che mi è stato spezzato durante la mia vita in Kosovo, che come sapete tutti quanti c'è stata la guerra in quanto l'ho subita per due anni. E quindi io ho avuto un'interruzione, un sogno che è stato spezzato, quindi ho avuto la possibilità di continuare grazie all'associazione Integra, dove come il primo mio percorso informativo mi è stata data la possibilità proprio dall'associazione Integra di poter sostenere il corso di mediatore interculturale. Una volta finito il corso di mediatore interculturale, sempre grazie a l'opportunità di lavorare nei diversi progetti, nelle scuole, l'ospedale, la questura. Siamo una famiglia, una grande famiglia multiculturale che la nostra Presidente ci ha preso per mano per un cammino verso la solidarietà. Io sono Margherita Memusci e faccio parte dell'associazione Integra da qualche mese e mi occupo del banco del lavoro. Mi piace molto lavorare in mezzo alla gente e con la gente. Io mi occupo del banco delle opere di carità che è sotto la guida di Don Lucio Ciardo e ci occupiamo di raccogliere derrate alimentari presso i supermercati, centri di raccolta, per poi distribuire alle persone bisognose, immigrati e non. Lavorando al banco, spesso essendo in contatto con le persone, veniamo a fronte con i problemi delle persone che non sono solo economici, ma anche a livello di documenti, problemi burocratici intanto. E in questa occasione volevo ringraziare l'associazione Integra Onlus per l'opportunità che mi ha dato, non solo per aiutare gli altri, il prossimo, ma così ho avuto una bella esperienza anche per me, a livello umano e a tutti i livelli. Ciao, sono Fabiola e con Integra mi sono occupata anche della campagna umanitaria Bimbi in volo per un sorriso. Questo progetto senz'altro è fatto di storie, di sorrisi, di lacrime, ma anche di una speranza, la speranza che possiamo dare ai bambini della periferia del Nord Albania. È nato nel 2006 in collaborazione con il Monsignor Angelo Massafra, che è l'arcivescovo di Scrutari e la forza della nostra Presidente Clodiana Kluca. Le attività negli anni si sono sempre più implementate, nel 2009 abbiamo ideato e realizzato un convegno, un sorriso per ogni bambino, dove hanno preso parte sia gli attori del locale, sia anche diverse associazioni del terzo settore. A tal proposito nel 2009 è stato organizzato un convegno che ha visto protagonisti diversi attori del locale, ma anche diverse associazioni del territorio e in villa è stato organizzato un momento ludico ricreativo proprio per i piccoli nostri protagonisti. La campagna ad oggi continua con la raccolta di materiale da riutilizzare come giocattoli e vestiario e si è stesa anche non solo ai piccoli della Nord Albania, ma anche sui bambini immigrati che sono presenti sul territorio nazionale oggi. Grazie ad Integra le nostre attività proseguono per donare un sorriso ad ogni bambino. Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo. Quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare. Quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro. Quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare. Quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare. Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli. Grazie a tutti i nostri fratelli. Integra Onlus prosegue sul suo cammino seguendo il vento. Il vento del cambiamento per un'Italia è un mondo migliori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.